Gloria a Dio, vogliamo continuare in questa riflessione dal titolo altari idolatrici in mezzo al popolo di Dio, altari idolatrici nella casa di Dio, parte seconda, gloria a Dio. E vediamo che Manasse, stiamo leggendo nel secondo libro delle cronache, capitolo 33, Manasse, come abbiamo letto, che pur essendo cresciuto sotto, possiamo dire, gli insegnamenti di Ezechia, Io credo che Ezechia, come dicevamo nella prima parte, aveva trasmesso dei buoni insegnamenti a Manasse, Ezechia, gloria a Dio, sicuramente aveva ascoltato dei buoni consigli, Quindi, scusate, Manasse aveva sicuramente ascoltato dei buoni consigli, Manasse, nella sua fanciullezza, aveva ascoltato dei buoni consigli, dei buoni insegnamenti, da parte di suo padre Ezechia, che fu un re devoto, timorato del Signore. Ma Manasse non aveva imparato nulla, come dicevo nella prima parte, come oggi molti cristiani, molti cosiddetti evangelici, passano anni e anni ascoltando la parola, ma non imparano nulla, non imparano nulla. Cari nel Signore, alleluia. Manasse non aveva imparato nulla, ecco perché, cronache 33, verso 2, egli, cioè Manasse, fece ciò che è male agli occhi dell'Eterra. Perché se tu non impari, sei solo un ascoltatore, un uditore dimentichevole, e tu non impari, e tu non applichi la parola, e tu non la ferri, tu non la metti in pratica, tu farai soltanto il male davanti agli occhi dell'Eterno. Puoi essere un evangelico, puoi essere un pentecostale, tra virgolette, puoi essere un frequentatore di culti, ma se tu non impari ciò che il Signore ti vuole insegnare con la sua parola, se tu non impari, se tu non afferri la parola, tu farai soltanto il male. Manasse segui le abominazioni delle nazioni, come oggi, fratelli e sorelle, nel Signore è la verità, ci sono tanti e tanti evangelici di nome, che invece di seguire la retta via, stanno seguendo le abominazioni. Abominazioni nella casa di Dio, seguono le abominazioni delle nazioni, seguono gli esempi del mondo, le mode del mondo, i modi di parlare del mondo, i concetti del mondo, sono influenzati più dal mondo che dallo Spirito Santo. Chi è che sta influenzando la tua vita? Chi è che sta guidando la tua vita? Chi è che sta ispirando la tua vita? È l'Eterno o è il mondo? Manasse seguiva le abominazioni delle nazioni, cioè del mondo che lo circondava. Fratelli, non è più tempo di seguire le abominazioni, non è più tempo di seguire la corrente del mondo. Alleluia! Non è più tempo di seguire le vanità del mondo. Oggi molti evangelici vanno ai culti della domenica, frequentano i culti, ma poi in verità seguono le abominazioni del mondo. Seguono più i programmi televisivi che i consigli dell'Eterno. seguono più le puntate delle loro telenoveli preferite, dei loro telefilm preferiti, delle loro cosiddette soap opera, delle loro cosiddette teleserie. Non si perdono nessuna puntata, ma hanno perso la chiamata di Dio, hanno perso l'unzione di Dio, hanno perso il timore di Dio e seguono le abominazioni delle nazioni. Fratelli e sorelle, è ora di risvegliarsi! Alleluia! Dal torpore di questo mondo! Cosa stai seguendo? Stai seguendo i consigli dell'Eterno? Stai seguendo le vie dell'Eterno? o le abominazioni delle nazioni? Le abominazioni del mondo? Cosa stai seguendo? Cosa stai seguendo? Non seguire le abominazioni del mondo presente. segui appieno le vie dell'Eterno, non commettere l'errore di Manasse. Poi, seconda cronaca è 33, verso 3, per riassumere, Manasse riedificò i luoghi che Ezechia, suo padre, aveva demolito. E così oggi purtroppo molti evangelici, molti cristiani, ricostruiscono ciò che il Signore aveva distrutto nelle loro vite. Chi ha orecchie da udire, oda e intenda. Molti ricostruiscono ciò che il Signore aveva distrutto e peccano davanti al Signore. Ritornano, come dice la scrittura, in un esempio molto forte, molto duro, ritornano al loro vomito. come una scrofa lavata che è stata pulita, ritorna a voltolarsi nel fango. Fratelli e sorelle, non ritornare alle cose vecchie. Non ritornare ai tuoi vecchi pensieri che l'Eterno aveva demolito. Non ritornare ai tuoi vecchi concetti, ai tuoi vecchi desideri. Non ritornare alle cose di prima. segui la nuova via del Signore. Non guardare indietro. Ma purtroppo Manasse aveva ricostruito gli altari che suo padre Zecchia aveva demolito. E addirittura eresse altari ai Baal, l'abbiamo detto nella prima parte, fece degli asceri e stiporrostrò davanti a tutto l'esercito e lo servì. E reste pure altari nella casa dell'Eterno. Fratelli e sorelle, questa è una realtà anche per oggi. ci sono persone che costruiscono e reggono altari nella casa dell'Eterno. Altari idolatrici. L'idolatria nella casa dell'Eterno. Venerano le loro belle immagini. Ma non sto parlando di immagini scolpite. Venerano i loro bei predicatori. Venerano le loro denominazioni. Attenzione, alleluia, che ho orecchie da udire oda. Per molti la denominazione è diventata un altare. Una forma di idolatria. Fanno venerazione al nome, all'etichetta della loro denominazione. abbandonate questi idoli e adorate solo l'Eterno. Adorate solo Gesù Cristo. Chi si vanta si vanti nel Signore. Non dice chi si vanta si vanti nella denominazione. Chi si vanta si vanti nel nome della loro denominazione. No, ma chi si vanta si vanti nel Signore. Noi dobbiamo adorare il Signore. Rallegrarci nel Signore. Glorificare il nome di Gesù Cristo. Inalzare. Essere fieri del nome di Gesù Cristo. Non fieri della denominazione alla quale appartieni. Molti stanno venerando. Hanno fatto degli altari nella casa dell'Eterno. è la verità fratelli e sorelle. Ma gloria a Dio è arrivato il tempo di abbattere gli altari gloria a Dio. Gli altari che stai venerando. Gli altari. Molti stanno adorando le immagini. Le belle immagini dei loro predicatori preferiti e mettono le foto dei loro predicatori fanno idolatria ai loro predicatori e è la verità, cari. Molti pensano eh ma se non c'è quel predicatore io non io non ascolto la parola deve essere lui a predicare perché se no non sento niente non mi non mi sento bene. Quella è anche un'idolatria. Sta idolatrando l'immagine dell'uomo corruttibile invece di adorare la gloria di Dio e la verità fratelli. Noi dobbiamo venerare la parola. Questa parola dobbiamo venerare. Dobbiamo prostrarci davanti al Signore e davanti alla sua verità. Gloria al Signore. Ma non ti fare degli altari delle immagini delle belle immagini nella casa del Signore. È tempo di abbattere le immagini. Ma manasse come dice seconda crona che verso capitolo 33 verso 4 eresse pure altari nella casa dell'Eterno della quale l'Eterno aveva detto il mio nome rimarrà in Gerusalemme per sempre. E poi dice che manasse verso 5 costruì altari ascolta a tutto l'esercito del cielo nei due cortili della casa dell'Eterno. Che abominazioni fratelli nella casa dell'Eterno dove doveva esserci la vera adorazione il vero culto a Yahweh all'Eterno colui che disse io sono colui che sono doveva esserci la vera adorazione alleluia verso il Dio di Israele manasse questo re corrotto come oggi mi dispiace dirlo ma lo devo dire ci sono evangelici corrotti ci sono predicatori corrotti che si sono fatti degli altari alle stelle del cielo nella casa dell'Eterno hanno fatto diventare i loro predicatori delle stelle delle star delle superstar che per venire a predicare devono firmare un contratto di 5.000 dollari che per venire a predicare tra virgolette a predicare devono avere un contratto di 10.000 euro se no non vengono devono avere gli hotel a 5 stelle se no non vengono hanno fatto degli altari alle loro superstar nella casa di Dio alle stelle del cielo si sono fatti delle altari alle loro stelle preferite lo sapete che oggi nel mondo ma non nel mondo nel mondo che non conosce Dio ma nel mondo evangelico ci sono cosiddetti cantanti chiamiamoli cantanti che sono diventati famosi che è diventato più famoso il loro nome e nelle canzoni che loro cantano nemmeno nominano il nome di Gesù nemmeno parlano del nome di Gesù nemmeno pronunciano il nome di Gesù che è al di sopra di un altro nome si sono fatti degli altari alle loro stelle alle loro pop star dentro la casa di Dio è la verità fratelli bisogna ravvedersi di queste cose perché Gesù dice chi vuole essere il primo nel mio regno sia l'ultimo noi dobbiamo essere ultimi in questa terra non delle star non famosi nel mondo evangelico noi dobbiamo essere ultimi gloria a Dio che il Signore ci aiuti a essere umili come Giovanni Battista diceva è necessario che lui cresca e che io diminuisca ascoltate il più grande dei profeti diceva io non sono degno nemmeno di slacciare il sandalo dai suoi piedi io non sono degno nemmeno di prostrarmi ai suoi piedi bisogna che lui cresca e che io diminuisca fratelli e sorelle ritorniamo all'antico Vangelo abbandonate quel Vangelo fatto di idoli e di star che hanno i loro palcoscenici i loro palcoscenici pieni di luci come nelle discoteche ma Davide quando adorava Dio lo adorava anche nel deserto nelle caverne alleluia nella solitudine gloria al Signore ma oggi questi cosiddetti artisti sono diventati dei cantanti dischi incidono dischi per vendere sono diventati famosi ma dov'è il nome di Gesù nelle loro canzoni dov'è la gloria di Dio è una falsa gloria fratelli è una falsa gloria perché loro dicono di adorare Dio muovono le moltitudini ma in verità stanno diventando loro famosi non stanno innalzando il nome del Signore e noi dobbiamo gettare gettare via quegli altari nella casa dell'Eterno e adorare solo l'Eterno per questo che io nemmeno ce li ho quelle musica lì nel mio cellulare nel nome di Gesù Cristo cancellale dal tuo cellulare nel nome del Signore e inizia adorare solo l'Eterno adoralo quando sei nella solitudine adoralo quando sei in casa tua adoralo quando sei in casa adoralo in ogni tempo adora il nome di Gesù Cristo il Signore dei Signori e il Re dei Re Alleluia che è l'unico al quale noi dobbiamo innalzare con tutto il nostro cuore Alleluia Mamma Nasse aveva fatto degli altari nella casa dell'Eterno verso 5 seconda cronaca 33 5 costruì altari a tutto l'esercito del cielo nei due cortili della casa dell'Eterno oggi purtroppo molti cadono anche in questo errore di venerare gli angeli fratelli ma non lo dico solo per il cattolicesimo attenzione ci sono perfino evangelici che rendono hanno un'ammirazione verso gli angeli hanno un'ammirazione verso l'arcangelo Gabriele e l'arcangelo Michele e hanno una stima un'ammirazione verso questi angeli ma gloria a Dio quando l'angelo parve a Giovanni in quella visione dell'Apocalisse e Giovanni nella sua purtroppo carnalità perché è stata carnalità si inginocchiò davanti all'angelo l'angelo gli disse non lo fare perché io sono un tuo conservo adora Dio adora Dio adora Dio alleluia questa parola vale anche per oggi non adorate gli angeli non venerate gli angeli e qui andiamo ancora in una profondità la parola angelo vuol dire messaggero come Gesù scrisse agli angeli delle sette chiese oggi ci sono persone che stanno venerando gli angeli i pastori stanno venerando i loro messaggeri preferiti hanno una lista dei loro predicatori preferiti fratelli queste cose le dobbiamo allontanare noi dobbiamo adorare soltanto lo spirito santo perché senza l'unzione dello spirito santo noi siamo morti non possiamo dire nemmeno una parola smettila di venerare i tuoi predicatori preferiti e adora l'eterno alleluia adora lo spirito santo prostrati soltanto dinanzi a lui che è il benedetto in eterno nei secoli dei secoli amén e amén continueremo in questa riflessione dal titolo altari idolatrici in mezzo al popolo di Dio nel nome di Gesù che ci guiderà ancora amén e amén alleluia alleluia Grazie a tutti.